Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucullus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dova di live tutti i giorni trovate il link in descrizione come da titolo, oggi andiamo a vedere come si vanno a mettere i loghi originali per stemmi e competizioni su Football Manager 2021, prima però andiamo a vedere come sono messi i loghi e gli stemmi per squadre e competizioni su FM21 perché vi faccio vedere insomma che sono un po' bruttini andiamo sul gioco, ho preso momentaneamente il Liverpool per farvi vedere che manca appunto il logo di base del Liverpool e anche insomma i trofei non sono diciamo proprio quelli reali, vedete insomma come è brutto quello della Champions, andiamo quindi a vedere come inserire quelli metallici che sono insomma quelli più apprezzati dalla community, poi più l'andremo anche a vedere anche ulteriori tipologie di stemmi e loghi andiamo sul sito di Sortidosì, questo è il sito da cui si può scaricare il materiale ovvero Sortidosì vi lascio chiaramente il link esatto in descrizione, bisogna però prima effettuare una registrazione e il login per poter accedere al materiale presente su questo sito, infatti se cliccate sulla rotellina insomma potete notare che c'è già un profilo logato ci sono circa 6 giga da scaricare perché non si agisce solamente sugli stemmi delle squadre delle competizioni, hanno rivisto anche gli stemmi per esempio delle bandierine, gli hanno dato un tocco metallico, andiamo su download complete pack, dopo aver cliccato su complete pack avete la possibilità di effettuare un abbonamento premium per 12 mesi di supporto, questo vi permetterà di scaricare ogni cosa presente su questo sito in un unico file, altrimenti chiaramente loro vi spezzettano il file in più parti per potervi permettere di scaricarlo in maniera gratuita, quindi se lo fate a pagamento avrete un unico download da fare che partirà subito, altrimenti avrete questa pagina che vi dirà guarda ci sono 7 pezzi che devi scaricare per avere questi loghi metallici, quindi andrete su deposit file o su quest'altro sito dove andrete quindi a scaricare materialmente ognuno di questi 7 pezzi, dopo aver scaricato tutti e 7 pezzi dovrete andare sull'estrazione e dovrete estrarre in un unico file tutto il materiale, quindi vi servirà ancora una volta un programma come 7 zip o un guidare per decomprimere il file finale, vi faccio vedere che però è presente anche la possibilità sempre senza fare alcun tipo di abbonamento di poter scaricare il file sì in un'unica versione ma sfruttando però il torrent, chiaramente per scaricare il file torrent avrete bisogno di un programmino per scaricare il materiale torrent, io per esempio utilizzo utorrent, andiamo quindi a vedere la possibilità di scaricare il file torrent senza andare a prendere ognuno di queste 7 pezzi che chiaramente sarebbe troppo lungo, clicchiamo quindi su metallic logo fm2021 v1.rar e dopo aver cliccato quindi sulla versione torrent del metallic logos, chiaramente qui vi dice già completato il trasferimento, ovviamente non ha già scaricato 6 giga ma solamente il file che poi servirà per far partire il torrent, andiamo quindi nella cartella di download, qui in download troviamo quindi il file metallic logos che pesa appena 39 KB perché non è il file logos vero e proprio ma solamente il file che poi farà avviare materialmente il download del vero file di 6 giga, clicchiamo quindi due volte sul metallic logos, si aprirà chiaramente il programmino che voi normalmente utilizzate per scaricare i torrent, chiaramente se volete vi lascio in descrizione anche quello che utilizzo io così insomma lo preinstallate prima di fare chiaramente questa operazione, questa schermata quindi la vedrete solamente se avrete già installato un programma per scaricare il materiale torrent, chiaramente potete anche cambiare la cartella dove verrà scaricato il materiale, io lascio sempre la cartella di download, vedete che insomma ci viene detto che verrà scaricato questo file che è appunto il pacchetto dei loghi metallici che pesa appunto 6 giga, andiamo su ok, chiaramente verrà prima preparato il caricamento, come vedete insomma si sta riempendo la percentuale, poi la velocità dipenderà da quante persone stanno condividendo questo stesso file, immagino che in questo momento ce ne saranno comunque tante perché è uscito da pochissimo FM21, ma ripeto la velocità sarà casuale e dipenderà da quante persone hanno mantenuto il file nella cartella di download per poter permettere a tutti quanti di poterlo scaricare. Io adesso lascio il materiale a scaricare, ci vediamo quando sarà completato il download. Terminato quindi il download abbiamo a che fare con quest'unico file, non ci resterà altro da fare che estrarlo, chiaramente per poterlo estrarre vi servirà un programma gratuito come 7zip o Winrar, vi lascio in descrizione anche il programmino per estrarre chiaramente questo file. Clicchiamo col tasto destro del mouse in corrispondenza di metallic logos, si aprirà questo piccolo menu, andiamo su estrai i file in metallic logos, attendiamo che quindi l'estrazione si completerà e poi vedremo cosa andrà fatto. E una volta completata la fase di estrazione avremo quindi questa cartella omonima metallic logos FM2021, ci clicchiamo dentro, troviamo quindi questa sottocartella ha sortito sì, clicchiamo dentro, clicchiamo dentro la cartella graphics, clicchiamo dentro la cartella pictures, troviamo finalmente queste quattro sottocartelle che dobbiamo spostare, ovvero la sottocartella delle bandierine, dei loghi per quanto riguarda i loghi dei club, poi torniamo indietro, troviamo anche la cartella dei media, è stato ritoccato ad esempio anche il design di Sky Sport Football e poi troviamo anche i trofei che sono appunto stati messi, quelli originali. Ora, fermiamoci qui all'interno di pictures e prendiamo tutte queste quattro sottocartelle con il mouse, tasto destro del mouse, clicchiamo quindi su taglia, dove averle selezionate tutte e quattro e andiamo in documenti, quindi documenti, poi sports interactive, poi clicchiamo su football manager 2021, qui se non è presente la cartella graphics dobbiamo crearla, quindi tasto destro del mouse, poi andiamo su nuovo, quindi su cartella e digitiamo graphics. e una volta creata la cartella graphics, clicchiamo due volte con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza di questa cartella e tasto destro del mouse e andiamo invece su incolla. A questo punto andremo a completare il trasferimento di queste quattro sottocartelle all'interno della cartella graphics presente appunto in documenti, sport interactive, futuro manager 2021, graphics. Abbiamo completato la fase di installazione, possiamo avviare finalmente il gioco. Una volta avviato football manager 2021 andiamo sul tasto preferenze che quest'anno sostituisce il tasto opzioni. Da generale ci spostiamo in avanzata, qui clicchiamo su più comuni, si apre questo menu a tendina e clicchiamo su interfaccia. Qui scendiamo finché non troviamo la voce skin a questo paragrafo, andiamo a deselezionare la casellina dell'usa la cache per ridurre i tempi di caricamento e selezioniamo la seconda casellina ovvero ricarica la skin quando si confermano le modifiche e a quel punto clicchiamo su conferma. Attendiamo quindi il processo di caricamento e poi potremo finalmente vedere se le modifiche avranno avuto effetto. Quando si vanno a modificare le componenti grafiche non è necessario avviare una nuova partita, infatti potete già notare che lo stemmino del Liverpool è stato modificato. Andiamo quindi a caricare l'ultima partita che abbiamo creato. Vediamo un po' cosa è cambiato. Sono stati aggiornati quindi i loghi grandi delle squadre ma sono stati aggiornati anche i loghi piccoli, infatti se noi andiamo a vedere la Premier League anche i loghi piccoli in classifica sono stati aggiornati. Andiamo su infosocietare, poi andiamo su storia e generale, vedete che anche i trofei sono stati aggiornati. Ha avuto effetto la modifica che abbiamo fatto sui loghi metallici. Il video termina qui, non mi resta altro da fare che salutarvi. Buon proseguimento di giornata e al prossimo video di FM21. Buon sabone!